Per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo ogni giorno, la Giunta regionale toscana con una delibera ha messo in campo una serie di azioni. I provvedimenti riguardano dei territori specifici, la città di Firenze, la Piana, Lucchese e la Val di Nievole e la zona fra Prato e Pistoia. Per quanto riguarda Firenze, l'obiettivo è la riduzione del biossido di azoto che deriva dal traffico. La Regione, con un accordo con il Ministero dell'Ambiente, mette a disposizione 3,5 milioni di euro per incentivare i cittadini a sostituire le vecchie auto particolarmente inquinanti, soprattutto quelle diesel. Questo ovviamente in un momento come quello che stiamo vivendo creerà anche un ulteriore stimolo e incentivo anche per il mercato dell'auto, per sostenere i consumi, quindi riteniamo che sia un'azione molto importante condivisa con il Comune di Firenze nel quale scatteranno alcune limitazioni alla circolazione a partire dal prossimo mese di novembre, proprio per i veicoli più inquinanti, perché ovviamente dobbiamo intervenire in zone specifiche e ben individuate. Nei territori della Piana Lucchese, della Val di Nievole e dell'area tra Pistoia e Prato, l'obiettivo è quello di abbassare il livello delle polveri sottili, le PM10, che vengono prodotte con il riscaldamento degli ambienti o con gli abbruciamenti. È stato deciso lo stanziamento di un milione e mezzo di euro per la sostituzione delle caldaie a biomasse e l'acquisto di biotrituratori.